Maltempo, le forti piogge mandano di nuovo sott'acqua vie e sottopassi a Fano e Marotta. Paghiamo gli errori del passato, ha dichiarato il sindaco Nicola Barbieri che ha elencato i lavori in corso e i prossimi progetti. Violenza sessuale in piazzale Matteotti a Pesaro, convalidato l'arresto del trentenne bengalese fermato dai carabinieri lunedì all'anno. Oltre 7 milioni di euro stanziati dalla regione Marche per il bando strade, oggi a Fossombrone sono stati presentati i progetti comunali ammessi al contributo. Miglior opera prima, con il suo album Cura Milani, ma la fanese Elisa Ridolfi ha ricevuto la targa Tenco sul palco dell'Ariston a Sanremo. A Roma parata di VIP per la presentazione della Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Aqualine. Grande successo organizzativo e di partecipazione per i campionati italiani di bocce per atleti paralimpici che hanno radunato a Fano più di 150 praticanti provenienti da 13 regioni. Nelle finali alla combattente brillano i portacolori della bocciofila San Cristoforo. Giovedì 24 ottobre, ben ritrovati cari telespettatori di Fano TV, questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla Notizia. Le forti piogge della scorsa notte hanno provocato nuovi allagamenti, in particolare nei comuni di Fano e Mondolfo. Nella città della Fortuna l'amministrazione comunale ha lavorato ininterrottamente per ripristinare la viabilità e garantire la sicurezza dei cittadini. La zona più colpita è stata quella a sud, dove diversi torrenti sono esondati e alcuni sottopassi ed attraversamenti stradali questa mattina risultavano ancora ostruiti. Il Comune è intervenuto anche sulla rete viaria principale per chiudere le buche che si sono formate a causa del maltempo. Ma la situazione più critica è stata registrata in alcune strade bianche, in particolare nelle zone di Caminate, nei pressi della discarica e nelle località di Fosso Segliore, Rocco Sambaccio e Carignano. Il sindaco Serfilippi ha assicurato un continuo monitoraggio e rapidità degli interventi. E ora andiamo a Marotta di Mondolfo, dove anche qui le forti piogge hanno colpito diverse vie e sottopassi della zona a nord. Vediamo. Una nuova perturbazione si è verificata ieri sera nel nostro territorio. Intorno alle 22.30 di mercoledì 23 ottobre un violento nubifragio ha colpito le zone costiere, tra queste oltre Fano, anche Marotta, nel Comune di Mondolfo. In quest'ultima, ad essere interessata dagli allagamenti, è stata la parte a nord. Subito attivato dall'amministrazione comunale, insieme alla protezione civile, fa di Bruno il centro operativo comunale. Allagate alcune vie del territorio, che sono le vie che solitamente soffrono maggiormente di allagamenti. Come amministrazione comunale abbiamo monitorato tutta la notte e costantemente il territorio, assieme ai volontari della protezione civile, che ringrazio, perché sono stati tutta la notte a monitorare il nostro territorio, tutte le vie, si è allagato nuovamente il sottopasso delle rane, dove questa mattina stiamo intervenendo per ripristinare la viabilità. Gli operai del Comune sono al momento su una via, vicino a Via del Buzzo, a Mondolfo, perché c'era una famiglia che era rimasta isolata, e quindi stanno ripristinando appunto una strada di campagna. E continueremo a monitorare anche nelle prossime ore la situazione. Come mai, Sindaco, si verificano queste situazioni nella zona nord di Marotta durante le forti piogge? La causa soprattutto sono gli errori del passato, urbanizzazioni che sono state portate avanti nel tempo senza prevedere adeguati canali di raccolta delle acque meteoriche, poi sicuramente la terza corsia ha peggiorato le condizioni, perché quando è stata realizzata, quella volta il Comune di Fano, che aveva in carico questo territorio, non ha previsto delle opere compensative adeguate sia sulla zona sud di Fano che sul quartiere di Marotta Nord. Quindi paghiamo adesso queste conseguenze. Anche attraverso i social si è parlato degli scarichi a mare. Qual è la situazione? Sia prima degli allagamenti di settembre che prima degli allagamenti appunto degli ultimi giorni, gli scarichi a mare erano tutti aperti, sia quelli di Marotta Sud e Marotta Cento, di cui la competenza è del Comune di Mondolfo e anche quelli di Marotta Nord, di cui la competenza è di Aset. Abbiamo visto alcune segnalazioni per quanto riguarda il canale invece di Via Chienti, che risultava ostruito, ma ha preciso che quella è l'opera che stiamo realizzando, che ancora non è funzionale, non è collegata a monte, con le vie a monte, quindi non è causa di allagamenti delle vie del quartiere di Marotta Nord, a monte della Statale. Inoltre il sindaco ha precisato che quella di Mondolfo è l'unica amministrazione che sta mettendo mano al problema degli allagamenti nella parte a nord. Abbiamo messo in campo un'opera di oltre 3 milioni di euro che è in fase di realizzazione, il nuovo canale di raccolta delle acque meteoriche su Via Corfu e Via Chienti. I lavori sono in corso, nel mese di novembre proseguiranno con il canale in Via Ferrari e in Via Betti e poi a primavera del prossimo anno realizzeremo l'attraversamento ferroviario sotto la ferrovia, ma anche sotto la Statale. Ora per il bilancio di previsione 2025 stiamo progettando una vasca di laminazione a fianco al campo sportivo di Via Martini che servirà per raccogliere le acque che vengono dall'autostrada sul fosso di Via Illica per permettere insomma di ridurre il rischio allagamenti anche nella zona di Via Dalmazia, Via Illica, Via Rovani, Via Rizzo e le vie insomma nella zona di quel quartiere. Confermata la custodia cautelare in carcere per il trentenne originario del Bangladesh sorpreso lunedì all'alba dai carabinieri mentre cercava di abusare sessualmente di una donna 49enne sudamericana. L'uomo questa mattina al Tribunale di Pesaro ha fornito la propria versione dei fatti. Si è difeso affermando che la donna gli avrebbe offerto una prestazione sessuale a pagamento ma che dopo averle dato i soldi si sarebbe rifiutata perché lui era ubriaco. Queste dichiarazioni saranno vagliate dagli inquirenti. Intanto oggi è stato convalidato l'arresto per via di una possibile reinterazione del reato di violenza sessuale. A partire dalle ore 10 di questa mattina si sono verificati problemi tecnici nel sistema centrale di accoglienza ricette gestito dal Ministero dell'Economia e Finanza. Questi non funzionamenti hanno determinato l'impossibilità sia di emettere la ricetta da parte dei medici di medicina generale, pediatri di libera scelta e medici prescrittori sia di prenotare la prestazione in qualsiasi centro abilitato per il cittadino che è già in possesso della ricetta. La Regione Marche ha fatto sapere di aver attivato tutti i canali possibili per sollecitare e velocizzare la ripresa dei sistemi centrali. E a proposito di sanità, come sapete il mese di ottobre è il mese dedicato alla prevenzione del tumore al seno. Di questa tematica se ne parlerà domani alle ore 21 al Centro Civico di Villanova. All'iniziativa, patrocinata dal comune di Colli al Metauro, interverranno la dottoressa Margherita Iacucci, ostetrica libera professionista, e la dottoressa Carolina Berluti, psicologa e psicoterapeuta. A Fossombrone questa mattina sono stati presentati i progetti comunali per il miglioramento della rete stradale ammessi a contributo dalla Regione Marche. Sentiamo di più allora nella prossima intervista realizzata all'assessore Francesco Baldelli. La Regione Marche continua ad essere vicina ai nostri comuni, a tutto il territorio, anche alle piccole realtà comunali. Lo avevamo detto sin dall'inizio, che saremo stati al fianco dei sindaci delle amministrazioni comunali per essere al fianco dei cittadini delle Marche, troppo spesso dimenticati nei loro bisogni primari. Opere puntuali, che sono grandi opere però per le realtà cittadine che vengono finanziate. 7.700.000 euro che vengono ripartiti sulle cinque province dalla Giunta a Quaroli per interventi sulla sicurezza stradale, sul miglioramento e l'accessibilità dei nostri comuni. Tra l'altro risorse ripartite, casualmente perché è un bando, in maniera equivalente tra il nord e il sud della Regione. 20 comuni tra le province di Pesero, Urbino e Ancona e 20 comuni nelle altre tre province del sud delle Marche, quindi Fermo, Ascoli, Piceno e Macerata. Una grande soddisfazione perché stiamo portando oltre 180 milioni di investimenti in tutti i nostri comuni delle Marche in soli 45-48 mesi della Giunta a Quaroli. Stiamo distribuendo ai comuni marchigiani per le loro esigenze, che poi sono esigenze di cittadini, circa 120 milioni di euro che equivalgono a 165 milioni di investimenti per le opere pubbliche di grandi e piccoli comuni della nostra Regione. L'europarlamentare Matteo Ricci, vicepresidente della Commissione Infrastrutture, Trasporti e Turismo, sarà a Fano venerdì 25 ottobre per partecipare ad una iniziativa pubblica intitolata Infrastrutture, opportunità per lo sviluppo e il turismo. L'incontro, organizzato dal Partito Democratico, si terrà alle ore 21 nella Sala Convegni Pedinotti in via Arco d'Augusto 80. Oltre a Ricci, nel corso della serata, interverranno il segretario del PD di Fano, Renato Claudio Minardi, il capogruppo in Consiglio Comunale di Fano, Cristian Fanesi e la segretaria provinciale del partito, Rosetta Fulbi. Invece, al Codma di Rosciano a Fano, domani sera alle ore 21 si terrà un incontro formativo sul volontariato di protezione civile organizzato dal Cibiclub Mattei. Agli interessati verrà anche illustrato il percorso formativo per conseguire il brevetto tipo C di Fircibi, la federazione italiana ricetrasmissioni. E torniamo a parlare dell'ospice pediatrico di Fano perché dopo le dichiarazioni dell'assessore Valdeglie e del sindaco Serfilippi che hanno respinto le accuse del Partito Democratico e dei 5 Stelle oggi è arrivata la replica del consigliere comunale del PD, Cristian Fanesi in merito alla variante urbanistica. Ho ascoltato e riascoltato con molta attenzione le parole dette ieri dal sindaco Serfilippi in replica ad una conferenza stampa tenuta dai consiglieri delle opposizioni per la Regione Marche in merito alla realizzazione del nuovo hospice presso l'ex ospedaletto di Fano. Ovviamente sono favorevolissimo al nuovo hospice e mi auguro che si possa fare in tempi molto rapidi. Però la mia replica è dovuta al fatto sulle inesattezze che sono state dette dal sindaco Serfilippi in maniera anche malevola perché dal punto di vista urbanistica quell'area è stata inserita come area residenziale dal PRG sviluppato nel 2009 dalla giunta a Guzzi di cui lui faceva parte per cui l'ospice è stato trasformato in un grande condominio da quel piano regolatore. Nel piano regolatore invece adottato alla giunta di centro-sinistra e in particolare nel dicembre 2023 il piano regolatore che ho seguito con molta attenzione quell'area è stata destinata a strutture collettive in ambito sanitario quindi abbiamo dato seguito alla volontà espressa da tutti di voler fare in quell'area un hospice pediatrico e altre strutture appunto riservate alla salute e non come detto ieri sera dal sindaco Serfilippi quindi noi nel nuovo piano regolatore abbiamo inserito quell'area come destinata per fare l'ospice. Inoltre vorrei sottolineare che in questi anni in cui ho avuto l'onore di essere assessore all'urbanistica mai nessun funzionario o dirigente della Regione Marche è venuto a prendere informazioni sulla destinazione urbanistica dell'area, sulla realizzazione di quel progetto si è visto solo un funzionario nel maggio 2024 in piena campagna elettorale e ovviamente quella visita secondo noi è stata fatta solo a scopi elettorali nulla in questi anni è stato fatto dalla Regione Marche affinché lì iniziasse la progettazione del nuovo hospice pediatrico e infine sottolineo che in politica gli errori se ne fanno tanti ma le bugie non si devono dire. Federica Romiti è la nuova referente sindacale per CNA per l'area territoriale di Fano 35 anni laureata in giurisprudenza Romiti dal 2020 ha ricoperto nell'associazione vari incarichi nel campo fiscale della consulenza e sicurezza sul lavoro adesso siederà ai tavoli economici e istituzionali rappresentando valori, idee e progetti della CNA il direttivo di Fano oltre ad augurarle buon lavoro ha voluto ringraziare il suo predecessore Fausto Baldarelli attuale responsabile provinciale di CNA Costruzioni per l'impegno e la passione dimostrati in questi anni Cambiamo argomento e parliamo di musica La scorsa settimana a Sanremo la cantante fanese Elisa Ridolfi ha ricevuto la targa Tenko per la migliore opera prima con il suo album Curami l'anima l'ha incontrata Cristiana Guerra Si è aperto il sipario sull'edizione numero 50 del premio Tenko la rassegna dedicata alla canzone italiana svoltasi il 17, 18 e 19 ottobre a Sanremo ad essere premiate a salire sul palco dell'Ariston per il miglior album opera prima con il suo Curami l'anima anche la fanese Elisa Ridolfi che ha avuto il merito di aver portato il fado portoghese in Italia Elisa, giovedì 18 ottobre è stata una data importante nella sua carriera di artista perché frutto di tanti anni di lavoro e sacrifici in quanto si è trovata a Sanremo a ricevere la targa Tenko ci racconti la serata? Ah, la serata faccio fatica perché è stata una serata molto bella molto naturale, devo dire pensavo di avere anche un impatto emozionale molto più intenso in realtà c'è stata una naturalezza, una spontaneità che mi ha così fatto veramente godere della dimensione nella quale eravamo tutti noi e in più la serata è ovviamente il clou però la verità è che quando si approda il premio Tenko c'è tutto un mondo che ti viene addosso e tu sei lì e ne godi quindi la giornata è stata veramente bella Da chi era accompagnato sul palco? Sul palco ci tengo particolarmente a citare Tony Canto che è produttore artistico di questo lavoro, di cura milanima, di questo disco dietro le quinte c'era Squilibri Editori che mi va lo stesso di citare perché grazie a loro questo disco è veramente poi approdato nella vita e con me c'era Alessandro D'Alessandro all'organetto diatonico che è uno strumento tra l'altro marchigiano quindi abbiamo portato un po' di marche a Sanremo Marco Zanotti alle percussioni e Andrea Alessi al contrabbasso Che cosa si prova ad essere sul palco dell'Ariston? È curioso perché l'Ariston è nell'immaginario di tutti noi un mondo fatato e non si capiscono neanche le dimensioni in realtà paradossalmente per chi è su quel palco perlomeno nell'esperienza del Tenko sembra di stare in un club c'è molta intimità con il pubblico quindi non è nulla di dispersivo ma c'è un'intimità che permette veramente di stare presente nell'esibizione Ecco, oltre a lei su quel palco sono saliti altri artisti chi sono stati premiati? Sono stati premiati Diodato, anche dei nomi nazionalpopolari Paolo Benveniù, Molinari, Setac è un progetto legato alla figura di Califano quindi le Targhe Tenko hanno le loro sezioni nel mio caso appunto ho vinto come opera prima Quando la vedremo questa serata in Rai? Dicono a gennaio, quindi c'è del tempo ma spero di saperlo anche io per tempo Curami l'anima è un lavoro curato nei minimi dettagli dalla tecnica vocale alla capacità musicale e questo è percepibile anche da chi non è un esperto È un lavoro che è stato fatto a varie riprese io cinque anni ho dedicato a questo lavoro le cose poi vengono bene in effetti quando c'è il giusto tempo questo fattore del tempo è determinante nella vita delle opere in generale e nel mio caso in particolare quindi ha avuto il suo tempo di gestazione, di produzione il processo creativo è stato straordinario io l'avrei già chiusa lì poi è arrivato Squilibri e ha deciso di portarla fuori appunto A chi vuole dedicare questo premio? Se è riuscito a venire fuori a parte le figure tecniche che ho citato prima che comunque sono una rete anche affettiva e umana importantissima e a loro va sicuramente merito io credo di dedicarlo alla mia famiglia che non l'ho mai detto ma senza di quella onestamente poi soprattutto avendo a che fare oggi con la musica è quasi impensabile perché sono un vero sostegno e poi un po' anche a me perché in qualche modo è un premio per la perseveranza ha detto qualcuno e lo credo anch'io Prossimo passo di Elisa quale sarà? Io continuo a camminare su questo filo che è la trama della mia esistenza che è un filo di fado perché c'è una canzone che si chiama proprio così quindi una linea del destino che cerco di assecondare e spero di riuscire ancora a garantirmi questa fisiologia con la vita perché sono molto soddisfatta della mia vita A 30 anni dalla morte di Don Paolo Tonucci Apito Marche ha voluto farne memoria raccogliendo in un volume le sue lettere più significative il libro Don Paolo Tonucci le lettere verrà presentato dall'autore l'arcivescovo emerito Giovanni Tonucci venerdì 25 ottobre alle ore 18 nella chiesa della comunità del Vallato di Fano coordinerà l'incontro Enrico Papetti giornalista e direttore dell'ufficio comunicazioni sociali della diocesi di Fano le letture invece saranno a cura di Enrico Magini Invece nella sala di rappresentanza della Fondazione Carifano domani alle ore 17 si terrà un incontro sulla nautica fanese sfide, strategie, progetti e il loro impatto sul territorio all'iniziativa organizzata dall'Università dei Saperi interverranno il dottor Fabio Fraternale amministratore delegato di Wider e l'ingegner Antonio Aiello del cantiere Fiberglass Yacht Development di Fano E dalla città della fortuna ci spostiamo a Roma dove è stata presentata la 59esima fiera nazionale del tartufo bianco di Acqualagna la presenza di VIP e personalità politiche Personalità illustri del mondo della cultura e della tv insieme alla stampa per assistere ad una serata che ha voluto rilanciare il marchio Acqualagna capitale italiana del tartufo A pochi giorni dall'avvio della fiera nazionale giunta alla sua 59esima edizione che si svolgerà per ben tre settimane a partire da sabato 26 ottobre il pregiato tartufo ha conquistato Roma in un'occasione speciale Tra le autorità politiche presenti il presidente della 13esima commissione agricoltura della Camera dei Deputati Mirco Carloni e il sindaco Pierluigi Grassi alla guida della delegazione di Acqualagna che ha aperto la conferenza presentando le ricche giornate di eventi ed ospiti accompagnato dall'assessore Pietro Barzotti e dalla consigliera Laura Sabatini Noi viviamo di memoria di tradizione perché la fiera nazionale del tartufo è stata ideata negli anni 60 e andiamo verso il 60esimo e dobbiamo rendere omaggio a quei sindaci che l'hanno ideata in quel periodo e poi l'hanno mantenuta negli anni successivi La nostra intenzione è innovare anche per il futuro quindi pensiamo alla internazionalizzazione della nostra fiera come nuova prospettiva di sviluppo del tartufo che è volano di un'economia provinciale e di un'economia regionale e ci vorremmo affacciare sul mercato europeo tant'è che abbiamo già allacciato dei rapporti anche con la vicina Austria, con Vienna con la quale ci collegheremo durante la fiera per un collegamento in diretta da due piazze dei nostri comuni Tra i molti celebri presenti alla serata di gala Tinto, della trasmissione di Radio 2 De Canter che racconterà in diretta il gusto dal comune marchigiano ed il noto conduttore Giancarlo Magalli eletto nel 2022 cittadino onorario di Aqualagna Sono cresciuto in Toscana, a Pistoia poi ho studiato a Milano lavoro a Roma perché conduco De Canter su Rai Radio 2 camper su Rai 1 quindi per forza devo stare nella capitale ma Aqualagna perché ce l'ho nel cuore e perché mi piacerebbe nascere da quelle parti in una vita futura magari reincarnarmi in un tartufo perché io lì respiro un'aria unica stringo la mano a persone uniche che reputo mie amiche e mi sento a casa e quando hai queste tre cose sei felice Presenzio da più di vent'anni me le sono viste e fatte tutte quante sempre con grande passione con grande amore ma non solo amore per il tartufo anche amore per l'Aqualagna che è un bellissimo posto una località cariata dove ho tanti amici e dove anche quest'anno stavo guardando il programma per scegliermi il giorno penso intorno al sabato 9 arriverò come sempre carico di buone intenzioni e anche di soldi per portare via un po' di tartufi tra le novità la seconda edizione del Tartufo Award la gara nazionale delle città del tartufo e il nuovo accordo agroalimentare Essenzia Marchigiana che unisce il gusto del tartufo a quello dell'olio di cartoceto con l'obiettivo di rivitalizzare consolidare ed aumentare i servizi turistici dei due centri storici vogliamo lanciare un messaggio e anche un esempio a tutta la regione Marche ovvero una cooperazione fattiva preziosa di insieme di rete all'interno della quale tutti gli elementi sono coordinati e orchestrati per arrivare a quello che è l'obiettivo vero che ci interessa fare dell'agroalimentare d'eccellenza una strategia turistica per il nostro entrotempo Una cinquantina le società oltre 150 i praticanti 13 regioni di provenienza sono questi i numeri dei campionati italiani di bocce per atleti paralimpici che si sono disputati lo scorso fine settimana a Fano impegnati atleti con disabilità fisica e intellettivo relazionale ce ne parla Andrea Maduzzi Quando si parla di sport paralimpico coniugare la valenza sportiva con quella sociale legata all'inclusione è automatico probabilmente per le sue stesse radici il mondo delle bocce ha saputo farlo prima di altri e continua a farlo con ammirevole perseveranza La prova provata i campionati italiani per atleti con disabilità intellettivo relazionali DIR e disabilità fisica sitting e standing che si sono conclusi domenica alla bocciofila la combattente Sede centrale di un evento che si è articolato per l'intero fine settimana anche attraverso gli impianti di San Cristoforo Ducrezia Amarotta e Calcinelli più di 150 gli atleti coinvolti in rappresentanza di una cinquantina di società per un ventaglio di 13 regioni che si sono dati battaglia per i titoli tricolori delle diverse specialità assegnati al termine di finali che sono state seguite da un pubblico numeroso e partecipe e alla soddisfazione di accogliere l'evento le bocce fanesi hanno potuto sovrapporre quella per il riconoscimento sul piano agonistico in grande evidenza la bocciofila San Cristoforo che ha potuto celebrare l'oro di Lorenzo Bronzini e Jacopo Primavera nella coppia livello C21 Dir dove il fanese Manuel De Marc che gareggia ora per l'Asci Postia ha conquistato il bronzo argento e bronzo per gli stessi Primavera e Bronzini nell'individuale C21 Dir dove si è laureato campione d'Italia proprio De Marc terzo posto invece per Manuel Pucci e Stefano Braconi impegnati rispettivamente nell'individuale livello B e C Dir a farsi onore anche Daniele Isavettini nell'individuale standing Elisa Vernelli e Silvia Borgoggelli nella coppia B Dir noi pratichiamo una disciplina svolgiamo una disciplina che è altamente inclusiva credo che sia la più inclusiva a parte il movimento paralimpico le bocce sono inclusione perché la bocciofila è integrazione to cure ci sono donne ci sono bambini ci possono essere tutte le fasce d'età tanti anziani ci sono i disabili quindi praticamente noi veramente oggi stiamo vivendo un grande momento è una manifestazione che fa parte della programmazione nazionale ed è assolutamente inclusiva ma nello stesso tempo ha un richiamo di pubblico non indifferente perché dietro ci sono le famiglie ci sono tanti volontari e soprattutto questo rende la nostra federazione più visibile e più correlata alle nostre potenzialità ed esigenze Promossa pieni voti un'organizzazione che in un'occasione estremamente impegnativa per le dimensioni e le particolarità della manifestazione ha saputo testimoniare una volta di più la credibilità la competenza la passione del movimento boccistico locale le marche ancora una volta primeggiano in questo ne siamo particolarmente orgogliosi ne sono particolarmente orgoglioso avendo ricoperto la carica di presidente regionale fino a pochi giorni fa e conseguentemente per noi è un lavoro continuo sui giovani e sui disabili cominciato l'anno scorso con i campionati italiani giovanili assoluti a Pesaro continuato quest'anno con i disabili e vedremo i prossimi anni che cosa potremo organizzare ancora le marche sotto il profilo organizzativo non hanno veramente nulla da invidiare ai più grandi ai più grandi comitati organizzativi nazionali e anche internazionali le marche sono veramente in questo straordinariamente coesivi e soprattutto efficienti devo dire che l'organizzazione è perfetta non è facile ricordate che stiamo parlando di tre addirittura tre settori diversi della disabilità perché i sitting sono una cosa gli standing sono quello che diamo sono una cosa e soprattutto gli intellettivi categorie diverse degli intellettivi relazionali sono un'altra cosa quindi unire insieme queste forze sportive paralimpiche non è facile devo dire che le marche sono state all'altezza della situazione complimenti a loro e a tutto lo staff e sarà il sindaco di Monbaroccio Emanuele Petrucci l'ospite di Simona Zonghetti nella nuova puntata di Primo Cittadino lunedì 28 ottobre alle ore 19 potrete intervenire in diretta telefonando allo 0721 86 14 33 oppure inviando un messaggio su whatsapp al 338 49 68 250 ed è tutto per questa edizione di Occhio alla Notizia grazie per essere stati con noi adesso come di consueto vi lascio alle previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato alla mostra impressionisti e grafica verso la modernità organizzata dalla Fondazione Carifano in collaborazione con Credit Agricola Italia si tratta di un viaggio nell'arte grafica di fine ottocento che celebra i 150 anni dalla prima esposizione impressionista a Parigi del 1874 buon proseguimento di serata sul canale 19 di Fano TV arrivederci a Parigi